Salve a tutti. Dopo aver fatto tre video sui testimoni di Geova e la filosofia vorrei fare anche delle riflessioni su cosa loro pensano della scienza, benché io non sia uno specialista a riguardo. Prima di andare avanti però, vi invito di vedere il video fino alla fine, mettere like, condividere, iscrivervi e vedere anche gli altri video, ad esempio quelli su questo stesso argomento. Avevo accennato nei precedenti video a cosa dicono i TDG sulla scienza. Loro in una delle loro pubblicazioni sostengono che è un bene fare ricerca scientifica, ma la scienza avrebbe dei limiti. Su questo argomento ci sarebbe molto da discutere, perché in teoria avrebbero ragione, ma bisognerebbe vedere cosa intendono. Loro dicono che la scienza e la fede si occupano di problemi diversi e quindi non andrebbero in contraddizione. Sembra un po' la posizione galiliana. Loro fanno spesso menzione di vari scienziati che credono credevano in Dio, però loro qui si contraddicono su un altro punto. Loro credono che chi non è TDG è una persona del mondo, sua natura guidato dal maligno, un pagano, o addirittura postata se prima era TDG. Quando conviene a loro però uno che non è TDG può avere ragione a tal punto da essere preso come esempio. E comunque loro sostengono che i vari TDG sono medici, così come l'apostolo Luca sarebbe stato un medico. Eppure in vita mia non ho mai incontrato un TDG laureato o con un minimo di cultura, ma forse è solo un caso. In un'altra pubblicazione sostengono che la Bibbia andrebbe d'accordo con la scienza su molti punti. Anche questo punto andrebbe approfondito a sé. Uno degli evergreen dei TDG è l'idea seconda cui nella Bibbia già parlassero di terra sferica. Fece già un video a riguardo parlando di terra piatta. In breve, non si capisce bene, stando ai testi originali, se per gli autori biblici la terra è piatta o sferica, non possiamo esserne sicuri al 100%. Ma per loro ovviamente siamo sicurissimi, perché Dio non può sbagliarsi. Loro credono addirittura che la Genesi andrebbe d'accordo con la scienza. Credono che i giorni della creazione avrebbero avuto durata indefinita, infatti si usa la parola giorno prima della creazione del sole, per cui il mondo può tranquillamente essere stato creato miliardi di anni fa. Vorrei ricordare che per loro la Bibbia è stata dettata parola per parola da Dio, non è stata ispirata da Dio e scritta da autori umani imperfetti in contesti storici, altrimenti crollerebbero la maggior parte delle loro dottrine, ma questo in realtà vale per quasi tutte le religioni. A parte questo, in un'altra pubblicazione i TDG negano di essere creazionisti, ma qui cercano di arrampicarsi sugli specchi. Per loro creazionismo significa credere che la Terra sia stata creata in sei giorni. Effettivamente io mi ero sempre chiesto se per loro la Genesi andasse presa alla lettera al 100%, ma loro invece dicono che quei famosi sei giorni non sarebbero da prendere la lettera. Ammettono ovviamente che loro credono che l'universo sia stato creato. Diciamo che loro credono nel creazionismo della Terra vecchia, non in quello della Terra giovane, resta il fatto che loro negano l'evoluzionismo. Dicono che se Dio ha creato gli animali secondo la propria specie significa che li ha creati così come sono e che non cambiano. Eppure ammettono che non sappiamo cosa l'autore intendesse dire con specie. Infatti, aggiungerei io, il nostro concetto di specie è nato di recente, secondo il linguaggio della biologia, non secondo le intenzioni dell'autore della Genesi. Loro sostengono che sia la scienza stessa, tramite i fossili, a dimostrare che le specie non evolvono. Per quanto le mutazioni avverrebbero all'interno della specie stessa, loro vogliono far credere che la scienza odierna abbia confutato definitivamente l'evoluzione e vogliono insegnare questa cosa ai bambini. Io non sono un biologo, per cui sono costretto ad affidarmi a ciò che la scienza dice attualmente, pur sapendo che sia vero fino a prova contraria. Se un giorno avessi il tempo per studiare in modo specialistico la teoria dell'evoluzione potrei dirvi la mia. Comunque nelle loro pubblicazioni non fanno altro che ribadire che la natura è frutto di un progetto e cose simili, però anche se fosse così non è detto che ciò sarebbe in contraddizione con l'evoluzione. Il fatto che le specie mutino nel tempo non significa che l'universo sia venuto fuori dal nulla per nessuna ragione o cose simili. A periodi anche Charles Darwin ha creduto che esistesse Dio, tanto da menzionare il creatore nell'ultima edizione dell'origine della specie. Il dibattito su tale argomento è molto vasto, ma di scienziati credenti ed evoluzionisti ce ne sono sempre stati. Diciamo che il cattolicesimo non ha mai avuto problemi con l'evoluzione, perché ha sempre creduto che non c'è contraddizione tra fede e scienza. In certi ambienti evangelici, soprattutto in America, si avverte il problema dell'evoluzione della fede. Inoltre la chiesa anglicana, che è processato Darian per le sue idee, ha chiesto scusa, anche se in ritardo, così come la chiesa cattolica chiese scusa a Galileo, sempre in ritardo, sull'aliocentrismo. Di fatto per i TDG non è così, secondo loro, anche se la Bibbia non nega che le specie possano mutare nel corso delle generazioni, l'evoluzionismo deve essere falso. Non ne sono sicuro, ma il fatto che da parte loro ammettano che il mondo abbia 13 miliardi di anni e che sia stato creato dal nulla, non significa che accettino il Big Bang. Comunque, mi domando, Dio non avrebbe fatto prima a progettare un universo che sviluppandosi da solo avrebbe permesso la nascita della vita, che poi si sarebbe sviluppata autonomamente fino all'uomo? A tal proposito vi rimando a uno dei miei primissimi video su Sant'Agostino e l'evoluzione cosmica. Un'ultima osservazione riguarda i loro aspetti dottrinali. La scienza dice che senza le trasfusioni si muore, e loro lo sanno, è inutile nagarlo dicendo che le trasfusioni sono un rischio, o che ci sono alternative. Infatti in una vecchia pubblicazione elogiavano i bambini morti per colpa delle trasfusioni. Eppure in una loro pubblicazione, sul loro sito si sono permessi di dire che i TDG che rifiutano le trasfusioni stanno anche meglio di chi le riceve. In un'altra invece si permettono di dire che senza sangue si riprendono meglio in ospedale rispetto agli altri. Ci sarebbero altri argomenti, però devo approfondirli, visto che non sono uno specialista. Ho solo voluto fare delle osservazioni, anche se non sono uno scienziato, non ho potuto fare un video approfondito come quelli precedenti sulla filosofia. Per ora è tutto, ma spero di poter approfondire questi argomenti per poter fare altri video. Per il momento è tutto, alla prossima!